Questa è una storia di pesci, pesci molto piccoli, delle rasvora che vedrete sullo sfondo. Questo è il modo in cui le rasvora del mio acquario si comportano. Allora dei pasti, la rasvora che per primo individua il mangiare, radiona le altre prima di iniziare a mangiare. Questo evidentemente è un meccanismo atavico appreso. Anche il cervello di pesci, come il nostro, impara dall'esperienza. Un'esperienza che ha insegnato alla rasvora che la condivisione del cibo è rassicurante. Perché condividere il cibo con gli altri significa che anche le altre rasvora, quando troveranno da mangiare, la chiameranno per condividere il cibo con lui. Anche quando il singolo pesce si troverà e rischierà di trovarsi senza mangiare. Furbe, questa è la rasvora. Se vi piacciono questi video, entrate nel nostro canale YouTube, iscrivetevi e commentatevi. Risponderemo sempre ai vostri commenti. Grazie. Grazie. Grazie.